Ehm, mi sposto. Non serve, siamo di fretta. Ciao, Anna. Ci siamo tutti? No, la corsa dell'altro giorno è stata una ficata. Dove hai imparato a guidare così? Vorrei dimenticare quella sera. Suo padre era un pilota di rally, c'è una foto su Instagram. Ah, sì? Ed era bravo, corri ancora. È morto. Ha spinto troppo sull'acceleratore. Mi dispiace. E tu, Nick? Come hai fatto a finire dentro a questo mondo di gang? Non mi piace parlare del passato. È cresciuto senza l'affetto della madre ed è fuggito di casa. Voleva essere un ribello. Ora basta, Anna. Il padre gli ha bloccato le carte di credito e in Messico ha conosciuto Lion, che gli ha insegnato la vita spericolata. In cambio, lui si è fatto la sua migliore amica. Tu non hai un passato scuro, vero, Anna? Figurati. La mia vita è stata noiosa. Forse se ti avessi conosciuta prima... Lei era la tipica bulla della scuola. Ma vaffanculo. Facevi scritte sui banchi per infastidire chi non ti piaceva? No, gli cavava direttamente gli occhi. No, gli cavava direttamente gli occhi. La mia vita è stata noiosa. Grazie a tutti.